Oggi vi voglio raccontare un personaggio storico che io reputo interessante e che ha un lato criminale di sicuro rilievo ma che volevo cercare un attimo di sfatare perché molti di voi mi hanno scritto a Cicalò parlaci di Franco Califano perché Franco Califano era collegato con la banda della Magliana era collegato con tanti criminali. Io volevo dire che mi interessa che il processo si faccia subito è il mio interesse che il processo finisca in fretta quindi non vorrei dilungarmi, io allungarlo con i miei discorsi inutili volevo dire semplicemente che io dall'inizio, dal periodo dell'istruttoria che chiedo che si verifichino questi tre posti specifici che ha indicato il melluso, ha detto il bello, per vedere se veramente ci sono questi scalini da scendere in questo locale per vedere se veramente il mio locale è nei pressi di Giaveneto, per vedere se veramente questa casa io l'ho avuta nei pressi di Corso Francia sono tutte cose facilmente riscontrabili oggi vi voglio raccontare un attimino quello che era il lato criminale di Franco Califano e perché forse è un mito un po' da sfatare se vi interessa il video di Franco Califano rimanete se no compratevi un bel disco di Peppino De Capri e mettetevelo tra le chiappe Franco Califano, detto il Califfo, era un personaggio particolarissimo per Roma in particolare rappresentava, specie negli anni settanta un modo di vivere disincantato, divertente, pieno di donne, pieno di lusso un qualcosa che ricordava un pochettino i boss di quell'epoca non a caso Franco Califano frequentava gli stessi ambienti dei boss degli anni settanta se voi pensate alla via Veneto, quella degli anni d'oro quando ci stavano tutti i marsigliesi e poi ho fatto il video quando c'erano tutti i boss che andavano ai locali a sbocciare, divertisse sempre pieno di donne, sempre pieno di attori, sempre pieno di cantanti lì c'era Franco Califano Franco Califano è diventato realmente famoso nel 72 quando ha fatto uscire tutto il resto e noia ma prima Franco Califano era un autore apprezzatissimo perché un autore? perché Franco Califano aveva l'abilità di scrivere aveva il gusto delle parole aveva cose da raccontare e le sapeva raccontare questi in un ambiente dove i cantanti magari erano bravi a livello vocale sapevano intonare, sapevano cantare eccetera ma non avevano contenuti e in particolare non avevano contenuti veri che toccavano il cuore delle persone interveniva Franco Califano lo stesso Califano ha scritto tantissime canzoni per tantissimi cantanti famosi quello che Franco rappresentava anche per la malavita romana quando si è famosi è facile che il tuo pubblico possa essere la casalinga, l'impiegato ma anche il criminale qual è la differenza? è che la casalinga e l'impiegato difficilmente li incontri in determinati ambienti cioè se vai in un locale di lusso quelli dove si spendono milioni per una serata non è che trovi la persona comune ma è più facile che tu trovi il criminale e il delinquente dunque è una serata che è stata fatta a Secondigliano in questa serata c'erano almeno una vicina di artisti forse allora più importanti di me a Napoli io ero uno di tanti invitati ho cantato una canzone in playback e poi sono andato via e sono tornato a casa io faccio tantissime serate di beneficenza specialmente nel napoletano che mi ha un po' adottato ultimamente c'è un altro lato poi di Franco Franco è sempre stato uno che gli piaceva vivere la notte uno che gli piaceva godersi la vita uno che ha avuto tantissime donne per quello veniva anche chiamato il califo perché aveva una sorta di harem di donne virtuale ovviamente perché lui le ciclava, le cambiava dopo il primo matrimonio che si è sposato a 19 anni con una donna ricca, Rita Di Tommaso con la quale ha avuto la figlia Silvia dall'in poi per lui è stata sempre tutto in discesa cambiava donne, cambiava partner sempre donne molto giovani sempre donne belle in realtà non è proprio così perché lo stesso Franco ha ammesso di aver avuto anche tante donne brutte lui dice inoltre 1500 donne una volta gli avevano imposti contarsene non c'era riuscito poi per sommi capi è arrivato a questo numero 1500 non posso aver avuto sempre donne belle ho avuto donne di tutti i tipi ma l'abilità stava nel trovare in quelle brutte qualcosa di bello ed era anche per quello che Franco era così bravo a scrivere canzoni o comunque lui non le chiamava neanche canzoni per lui erano poesie se ci fate caso con Ornella Vanoni durante l'esibizione ha creato prima un testo in rima dopodiché parte la canzone perché lui era polivalente da questo punto di vista a lui piaceva scrivere indipendentemente dal fatto che uno lo vedesse così un po' burbero, un po' belloccio molti lo associavano a Jean Paul Belmondo altro tipo del cinema lui ha iniziato la sua carriera proprio con i fotoromanzi Grand Hotel che era una di quelle riviste dove c'erano quasi tutti i fotoromanzi dove uno era belloccio, ben vestito lui faceva sempre la parte del cattivo bello però perché aveva questo fascino particolare e scriveva, scriveva indipendentemente dal fatto del suo fascino non fascino il fatto che poteva essere visto anche come uno un po' burbero scriveva, scriveva bene aveva sempre quel piacere nel presentare una scrittura bella cioè lui non esisteva la correzione sai tanti scrivono una canzone fanno una brutta copia, una correzione cioè lui ti doveva da una cosa, te la doveva da perfetta calligrafia perfetta ortografia perfetta tutto bello pulito e lineare senza una sbavatura aveva questo gusto un po' kitsch ma era sempre il suo gusto poi lui era un appassionato lui collezionava auto d'epoca cani di razza e donne queste erano le sue tre collezioni ma come si è formato lui così particolare? lui racconta questo suo modo di vivere è nato nel momento in cui è morto il padre il padre è morto giovanissimo a 38 anni ha sempre lavorato ha dapprima fatto il soldato in Libia dove poi è nato Franco tra l'altro e poi ha sempre fatto l'operaio istancabile il lavoratore istancabile che a 38 anni è morto e non si è mai goduto la vita diciamo questo doppio trauma l'ha mosso cioè rimanere comunque orfano di padre giovane aver visto un padre che lavorava sempre ha detto lo sapete che c'è si campa una volta sola e io la vita me la voglio godere e da lì comunque è stata un escalation e ha avuto a che fare in particolare con Francis Turatello ho detto era mio amico e io questa amicizia credo di pagarla di averla pagata si era amico fin prima che diventasse importante io sono molto legato ero anzi al figlio perché nel 72 Califano è stato arrestato è stato arrestato perché accusato di trafficare determinate sostanze lui non ha mai negato di utilizzare determinate sostanze in particolare perché suonava faceva le nottate poi lui era uno che s'alzava tardissimo e viveva dal pomeriggio alla notte anche in tarda età questo frequentando questi ambienti dove giravano tante tante sostanze va da sé che non poteva nemmeno negarlo però ha sempre negato di fare traffico di queste cose le accuse erano legate al fatto che lui cedesse questa sostanza a persone degli ambienti dello spettacolo della musica perché lui in quel periodo era un autore rinomato scriveva i testi come dicevo per cantanti molto molto famosi era autore di personaggi di un certo livello nel 72 conosce anche Francis Turatello il boss di Milano è dal 1970 che va avanti questa storia della cocaina è dal 1970 che io ricevo visite in albergo alle 7 e le 8 del mattino quando hanno voglia di farlo i poliziotti è dal 1970 che vado avanti tra assoluzioni e proscioglimenti e a riprova di questa sua amicizia c'è anche la foto di copertina del suo disco tutto il resto è noia dove il bambino è proprio il figlio di Francis Turatello lui non l'ha mai negata questa amicizia perché giustamente non ci ha trovato nulla di male ha semplicemente detto che Francis gli ha sempre mostrato la parte normale della sua vita cioè lo ha tenuto all'oscuro di quella che era la parte malavitosa perché parliamo di un malavitoso di un certo livello il boss di Milano praticamente un'altra cosa che spinse Franco Califano forse a stare dietro alla malavita fu che nel 1967 si ammalò di meningite da virus questa meningite da virus oltre a essere veramente devastante spesso porta alla morte lo tenne in ospedale per un anno al Mother Day ospedale privato che gli costò tantissimo dove dopo un anno riuscì a riprendersi ma era praticamente in banca rotta nel senso che lui aveva fatto dei soldi come autore ma aveva dilapidato questo piccolo tesoretto e si ritrovò praticamente senza una lira lui disse che inizialmente riuscì a sopravvivere grazie al fatto di prostituirsi disse che si prostituiva con donne ricche, belle ed eleganti spesso anche solo per condividere il letto con loro perché non sapeva dove andare a dormire in altri casi per soldi in realtà non è tutto rose e fiori perché quando ci si prostituisce non è che puoi scegliere tu sei bella, tu sei brutta quando ti capita un cliente o una cliente perché ti può capitare anche un cliente di sesso maschile se vuoi soldi se vuoi andare a dormire se vuoi mangiare ci devi andare questa ovviamente è una cosa che gira come voce ma mai confermata quando lui iniziò a cantare lo fece in maniera molto spensierata perché aveva i testi aveva la capacità di cantare aveva sicuramente una voce interessante dove lui spesso piuttosto che cantare iniziava parlando e con tutto il resto e noia ci fu proprio l'esplosione perché riuscì a vendere oltre un milione di copie considerate che Franco Califano nella sua intera carriera dal 72 se non sbaglio al 2009 è riuscito a vendere ben oltre 20 milioni di dischi che è un numero enorme senza considerare che ha fatto vincere per esempio il Festival di Sanremo a Peppino Di Capri senza considerare che è stato uno scopritore di talenti cioè lui ha praticamente creato i ricchi e poveri Gio Chiarello Donatella Rettore o perlomeno li ha scoperti o perlomeno li ha prodotti che non è una cosa da poco ma l'altro step criminale fu proprio il maxi processo del 1984 quello tra l'altro che coinvolse anche Enzo Tortora di cui vi ho già parlato e di cui trovate il video se non l'avete visto andatelo a vedere e fu accusato anche lui come Tortora da Gianni il Bello e Pasquale d'Amico Gianni il Bello sarebbe Giovanni Melluso per quanto riguarda il sedere di Gianni Bello che gli avrei toccato e gli avrei detto quanto sei bello chi mi conosce sa che io il sedere potrei averglielo toccato alla sorella o alla moglie magari i quali giustamente dissero che cosa? che trafficava le sostanze in particolare fu accusato di essere andato a cantare a una festa di un noto boss e dopo questa festa di aver preso una grande quantità di sostanza stupefacente ovviamente nel processo questo lo nega Franco dicendo anche che sì io l'ho avuta della sostanza ma me la so sempre comprata per cavoli miei ad uso personale perché la usavo per le serate e questa fu l'altra ammissione ma fu lo stesso incarcerato come fu incarcerato Tortora ovviamente ne uscì assolto con formula piena perché non c'erano proprio i presupposti il fatto di stare sempre comunque con dei boss avere a che fare con organizzazioni criminali per un cantante come lui era normale perché come vi ho detto gli ambienti erano quelli le serate erano quelle poi da cosa nasce cosa comunque sono personaggi potenti voi immaginate che Franco non era uno sprovveduto non era uno che dice quello è un boss stiamoci attenti no è normale che uno coltiva anche certe amicizie stando attento ovviamente a non finire in determinate reti perché finché io frequento quelle persone a livello di divertimento nei locali può essere che ci scappa magari l'uso di sostanza magari qualche donna in comune magari uno te presenta una donna lui te la presenta non vieni coinvolto in situazioni criminali perché poi è quello molti pensano eh ma io ho visto il romanzo criminale che c'era un cantante che riciclava i soldi regà a quelli non gli serviva il cantante per ricicla i soldi cioè stiamo a parlare di gente che ha mosso miliardi e miliardi negli anni il cantante era sicuramente una persona che avevano piacere ad ascoltare da avere intorno e che magari lo pagavano per suonare o per cantare a una loro festa a una loro serata l'amicizia con Francis Turatello è molto semplice cioè mi piace mi sei piaciuto sei un tipo simpatico ma non mi servi per i miei traffici te fai il cantante io faccio il criminale praticamente a discolpa di Franco Califano dal punto di vista criminale è proprio il fatto che Franco Califano era un artista a 360 gradi lui ha scritto più di mille canzoni ha fatto tantissimi concerti ha presenziato negli anni anche in televisione ha fatto cinema da quel punto di vista lui stava benissimo ed era una persona che aveva a cuore tantissimo i giovani anche andando avanti negli anni alcuni miei amici lo andavano a trovare a casa andavano a casa a trovare Franco Califano ovviamente doveva andare da dopo pranzo in poi perché altrimenti dormiva ma la cosa buona è che t'accoglieva a casa ti dispensava consigli si faceva una chiacchierata e gli piaceva stare con i giovani e questa non è una cosa sottovalutare perciò io così sommando tutti gli elementi che ho raccolto vi dico che secondo me è un falso mito che Franco Califano era il cantante criminale o il cantante dei criminali nel senso che se poi deve essere il cantante dei criminali perché le sue canzoni erano reali erano forti e in un animo criminale potevano piacere come ovviamente potevano piacere alla casalinga ci stava poi come ho detto se a me mi piace uno indipendentemente da tutto mi fa piacere la sua compagnia se Franco come cantante piaceva i boss e i boss avevano piacere la sua compagnia con molta probabilità lui non gliela avrebbe negata ma per due motivi perché giustamente era un uomo che sapeva vivere perciò non è che aveva paura dei criminali e due perché si sarebbe fatto semplicemente dei nemici in più senza motivo qualche vantaggio probabilmente in quei casi avrebbe potuto trarlo magari qualche dritta qualcosa perché gli piaceva pure giocare i cavalli perché gli piaceva comunque frequentare anche scommettitori ex pugili comunque lui frequentava gente del popolo infatti tra le donne lui non è che c'ha avuto tutte donne famose eccetera lui aveva una passione per le donne così ampie pure per arrivare a queste famose 1500 persone lui frequentava anche donne di borgata donne di periferia ragazze della classica porta accanto e molte gli venivano presentate anche da queste persone cioè lui c'era un obiettivo primario andà con le donne e quello gli prendeva una bella fetta del tempo ogni tanto magari si faceva con qualche sostanza gli piaceva comporre gli piaceva portare avanti la musica gli piaceva portare avanti le parole che scriveva però è un personaggio che ha fatto veramente la differenza a Roma ma non solo a Roma in tutta Italia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista del personaggio anche se con i suoi difetti che sono stati secondo me nel tempo sempre accettati bene dalle persone che lo seguivano ed è riuscito a prendere tantissime fasce di utenti perché poi ha preso i genitori i figli i nipoti eccetera tutti quanti si appassionavano comunque alla musica scritta da Franco Califano se avete altra informazione o altro scrivetemelo qui sotto nei commenti se volete altri personaggi scrivetemelo nei commenti ci vediamo al prossimo video ciao ciao